Il paniere di Merlini Nel cuore dell'oltrepop avese la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Venerdì 24 febbraio, le ore 21, presso la sede di Vogherei, in via Cavallotti 16, si terrà l'evento Ciak Si Vota. Una conversazione con Umberto Baccolo, un critico cinematografico, ne parliamo con Attiglia Vecini, proprio dell'associazione Vogherei. Come si svolgerà questa serata? La serata si svolgerà con alternanza di proiezioni e commenti. Umberto Baccolo è un giovane critico cinematografico, ma anche cineasta, nel senso di autore di cortometraggi. Ha tenuto corsi, intanto ha un curriculum internazionale, nel senso che ha vissuto per anni a Berlino, dove ha lavorato appunto nell'ambito dei cortometraggi. Ha tenuto anche in zona, a Rivanazzano, eccetera, dei corsi molto frequentati di storia del cinema, di presentazione di autori importanti. E ci ha presentato un programma nutrito di possibili interventi su vari temi cinematografici. Abbiamo scelto, con questo titolo un po' provocatorio, Ciak Si Vota, il film dedicati alle elezioni, perché è un tema che ha toccato la città recentissimamente, che ci ha toccati come associazione e quindi ci sembrava un modo anche ironico di affrontare la situazione. Quindi è già soprattutto sembrato importante valorizzare un giovane creativo del territorio che finora non ha trovato molto spazio in città e quindi speriamo che questo sia l'inizio di una serie di incontri, sia di storia del cinema, di critica cinematografica, o anche magari proprio di laboratori per imparare a filmare. C'è anche queste competenze, quindi se riusciamo a creare un pubblico e un'utenza con interessi cinematografici potrebbe essere un'esperienza abbastanza nuova per la nostra città, accanto a quella che già abbiamo presentato nel settembre scorso della rassegna di cortometraggi, che purtroppo non si tiene in città ma si tiene a Montebello. Sarebbe molto bello invece che i giovani appassionati di cinema o giovani registi che operano in città trovassero a Voghera lo spazio per esprimersi. Quindi in un qualche modo c'è un ponte ideale tra l'associazione Iria Cultura, che produce il cielo dei cortometraggi e che organizza il festival dei cortometraggi, che hanno presentato appunto qua, e l'iniziativa di oggi con Umberto Bacolo. Ecco c'è sicuramente un humus fecondo di giovani appassionati di cinema, di giovani cineasti che meritano l'attenzione della nostra città. Quindi ricordiamolo, tra l'altro io vorrei anche sottolineare quello che è il sottotitolo dell'evento, cioè le elezioni nel cinema internazionale. Questo fa capire proprio la tematica della serata dei venerdì 24 febbraio alle ore 21 presso l'associazione culturale Voghera Envia Cavallotti 16, ovviamente a Voghera. Grazie mille. Grazie a voi.